segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te io prima parlando lì in apertura ho cercato di dire che noi viviamo in un'epoca in cui la politica a scarsa considerazione poi ho chiesto retoricamente perché sappiamo la risposta la politica o gli uomini e le donne che la fanno guardi questa frase di bismarck otto von bismarck disse una volta che la politica non è una scienza come molti signori professori immaginano ma un'arte è veramente un'arte la politica è qualcosa di molto nobile perché se scarnifichiamo e andiamo al sodo la politica è il canale che mette in comunicazione i cittadini con lo stato e ci consente di esplorare la sfera pubblica quel posto dove si prendono le decisioni per il paese quindi ci consente di essere parte di capire di partecipare quindi la politica è quello che unisce le mie aspirazioni miei bisogni i miei ideali le cose in cui credo con quelli di altri cittadini e insieme formano quella che una volta si chiamava la causa avere una causa avere qualcosa in cui credere avere qualcosa per cui per cui muoversi mobilitarsi è quello che trasforma la solitudine del cittadino in una società è un insieme mi ha tolto la parola di bocca stavo pensando proprio a societas cioè l'insieme dei cittadini i quali hanno opinioni diversi interessi diversi e si organizzano in forme diverse nel caso specifico da un paio di secoli nei partiti politici i quali sono tra l'altro riconosciuti a livello costituzionale nel nostro paese purché si muovano dice la costituzione con metodo democratico questo è un particolare di un particolare che ha un certo valore ha condiviso prima quando dicevo che la politica e forse i politici oggi godono di scarsa considerazione intanto ecco intanto la regista sabrina prontamente ci ha fatto ci fa vedere il dettato dell'articolo 49 dicevo condivide il fatto che i politici uomini e donne hanno scarsa godono di scarsa considerazione è un dato di fatto ma subito dietro questo dato di fatto c'è un qualcosa di amaro è come se noi godessimo di scarsa considerazione di noi stessi perché la politica è lo specchio del paese c'è una frase cinica ma vera di gioliti dice la società è per il 30 per cento meglio della politica per il 30 per cento uguale per il 30 per cento peggio io non ho mai creduto nella società civile in quanto tale c'è una società civile e c'è una società incivile però ho sempre pensato che bisogna avere rispetto per la politica perché una società democratica è l'unica che deve sedersi a capotavola governare il mazzo delle carte e distribuirle perché l'unica che può conciliare lo scontro legittimo degli interessi in nome dell'interesse generale è il suo mestiere sì è bello quello che ha detto io conoscevo tra l'altro quella frase con altre proporzioni cioè 20 il meglio 20 il peggio 60 come il re 20 il meglio dei cittadini 20 il peggio dei cittadini 60 come il saldo è lo stesso sì il saldo è lo stesso